Buongiorno amici scommentitori, oggi è martedì 23 febbraio, io sono Buro e questo è il BetItalia Web Daily Show. Allora oggi facciamo un po' di edicola di prime pagine, notizie sportive. La prima notizia è molto brutta per gli appassionati di motori, di motociclismo come noi in particolare. Questa mattina ci ha lasciato Fausto Gresini, che in attività due volte campione del mondo 125, proprietario di un team di MotoGP, era stato colpito dal Covid intorno a Natale e ci ha lasciato purtroppo questa mattina. Davvero una brutta notizia e non finiscono qui le brutte notizie perché a Torino aumentano i positivi, il partito con il Sassuola a rischio e Granata hanno anche interrotto gli allenamenti. Altre notizie molto velocemente, si corre ciclismo, Emirati Arabi e Pogacar sta anche dando spettacolo il nostro Pogacar. Parliamo anche di curiosità un po' meno pesanti, Ibra a Sanremo, pendolari in elicottero per allenarsi. Particolare anche questa situazione qua di Ibra a Sanremo secondo me. Particolare anche che l'Italia si appresta ad entrare nuovamente in zone arancioni, rosse con più limitazioni e Ibra invece farà il pendolari in elicottero da Milano a Sanremo appunto per non perdere il festival. Vabbè, Schwarz è pronto il ricorso per mandarlo all'Olimpia, dice anche il caso Suarez. Il GIP ha ammesso di aver ricevuto il testo dell'esame. Luis Suarez, ricorderete, è il fattaccio dell'esame di italiano quando sembrava che dovesse arrivare alla Juve. A proposito di Juve, ieri 3-0 al Crotone, i bianconeri non sbagliano, Ronaldo Show. Che altro c'è? Edicola, Gattuso, appeso a un filo, esonero, si esce col Granada, si chiede il Corriere dello Sport. Povero Ringhio, spesso lo citiamo anche noi nei nostri articoli sulle quote e le scommesse sul calciomercato. Ma poi chi ci va al posto di Gattuso? Speriamo non il mio De Zerbi. Milano ieri ha perso, Milano ieri ha perso in Eurolega, lo avevamo detto occhio perché ci sono delle assenze importanti e la quota degli avversari dell'Olimpia sta scendendo di molto. Formula 1 è stata presentata alla nuova Red Bull, non è una rivoluzione ma un'evoluzione. Vabbè, staremo a vedere anche lì. Oggi cosa abbiamo? Ovviamente calcio, come vedete anche in sovrimpressione, c'è la Champions, Atletico Madrid-Celsea e soprattutto Lazio-Bayern. Allora, la Lazio ha perso solo una delle sei partite di Champions contro avversarie tedesche. E in casa tra l'altro è imbattuta, però oggi è sfavorita anche se va detto che la quota sta scendendo da 5 anche sotto a 4,50. Servirà comunque l'impresa per gli uomini di Inzaghi, anche perché il Bayern ha imbattuto nelle ultime cinque trasferte di Champions contro squadre italiane. Nella scorsa stagione tra l'altro il Bayern ha vinto 16 delle 17 partite di Champions, l'altra è stata un pareggio, no una sconfitta, con una differenza reti complessiva di più 48 gol. Quindi ho detto tutto da questo punto di vista. Comunque ne parliamo dopo, sia dell'Atletico sia della Lazio in free pick e ve ne darò 4, mi ero dimenticato. Non solo di calcio ma anche di volley, perché oggi c'è la Champions League di volley, sia nel maschile col derby azzurro Modena-Perugia alle 18, andata dei quarti di finale, e sia nel femminile. Novara sfida il Fenerbahce, trasferta davvero tosta per Ligor Gorgonzola in Turchia. C'è anche, mi ero dimenticato, nel calcio abbiamo anche la Premier League, con il recupero l'Izza-Utenton e gli immancabili sei partite di Championship inglese. A proposito di recuperi, Eurolega oggi si recupera anche Zalgiris contro Stella Rossa alle ore 19, e infine tennis, si gioca a Cordoba, dove ieri abbiamo già anticipato una giocata su Majer nella doppia di Darius, e si gioca anche a Montpellier, dove invece completeremo domani la doppia, domani mattina alle 11, quando scenderà in campo Sinner. Per il VTA femminile invece si continua a giocare a Singapore e a De Laide. Veloci con i risultati, perché ieri un gol al 95esimo del Crystal Palace ci fa chiudere a meno 100, invece che a più 69, al 95esimo. Nelle scommesse però purtroppo è così, esistono anche i tempi di recupero, ieri ci ha detto male, perché Osasuna-Siviglia è finita con due gol, e il Siviglia non ha concesso niente neanche in questa trasferta, ha vinto 2-0 e lì ci siamo presi il rimborso. Vabbè, è un po' di amarezza. Ci siamo però rifatti nel VIP di Betting Mania con gli Sport americani, vedete una carrellata delle giocate che abbiamo dato. La principale in NBA, lo ammetto, era John Wall, over 23,5 punti, l'avevo data anche in free pick nel canale Telegram di Betting Mania, e trovate sempre il link qui sotto. Houston però ha perso malamente, c'è stato anche del garbage time, e Wall ha giocato anche pochino e non è entrato l'over punti. Ok, invece l'over a Phoenix, dove prendiamo pure l'over punti più assist di Devin Booker. Booker tra l'altro ha fatto over solo con i punti, 34, la linea era a 30,5, punti più assist. Incassiamo anche il meno 11,5 dei Jets che sono tornati a macinare, sono subito rimessi in corsa, impressionanti, lo dico ogni giorno. Peccato per Westbrook, li avevamo giocato contro, invece ha segnato tanto nella quinta vittoria di fila dei Wizards, che battono anche i Lakers a domicilio. Al contrario è un periodo difficile per i giallo-viola senza Davis, ennesimo overtime per Lebron James e compagni, tra l'altro bisogna iniziare a giocare overtime sì quando giocano i Lakers, perché è incredibile. Nella doppia underdog purtroppo niente da fare, Portland è stata macinata a Phoenix, peccato perché avevamo messo proprio il più 9,5 di Washington, che secondo noi in effetti poteva giocare, magari non vincerla, ma giocarsela più 9,5. Bella invece la doppia sui rimbalzi, la doppia probet ha 3,80 di quota, avevamo dato l'over rimbalzi di Valanciunas, che ne porta giù ben 15, e l'over anche di Adebaio, che chiude con 13 rimbalzi a referto. Bene anche il College, All Green, una sola giocata a bilancio, che erano la doppia con le vittorie di Sam Marys e Duke, a Duke avevamo consigliato anche la combo, e poi ci sono anche 3 su 3 nelle idee veloci, come vedete in sua impressione. Infine NHL, anche qui non entra la giocata principale full stake, purtroppo, ed era Toronto, che tira di più, ma non segna nemmeno un gol, e tra l'altro in porta non c'era Henderson, ma c'era Hutchinson, che numeri alla mano è il terzo portiere di Toronto, maledizione, un altro under in Colorado, lì invece incassiamo, le altre 3 giocate, appunto l'under in Colorado, la vittoria di Arizona, e tanti gol a San Cosè, 3 gol già nel primo periodo, era la nostra pick statistica, over 1,5, del resto Sharks e Wild, non sono tra le migliori squadre da over in generale, sui 3 periodi, ma sono tra le migliori squadre da over nei primi periodi. Cosa c'è oggi? 9 partite di NBA, nuovamente contro Toronto, contro Philadelphia, bella, interessante anche Dallas contro Boston, i risorti Washington-Wizard, giocano ancora a Delea, allo Staples Center, questa volta contro i Clippers in back-to-back, occhio però ai back-to-back, di solito Westbrook sta a sedere nella seconda partita senza riposo, anche i Blazers sono in back-to-back e giocano a Denver, Milwaukee tra le maggiori favorite, oggi meno 11,5 in casa contro Minnesota, nel college bellissima giornata, tante sfide interessanti anche oggi, in Big Ten abbiamo Michigan State contro Illinois, i miei Illini che sono quarti nel ranking nazionale, Nebraska sfida Penn State, in Big 12 invece abbiamo Texas Christian contro West Virginia, che è tredicesima, poi abbiamo la seconda squadra del ranking nazionale, Baylor, che ospita Iowa State, i Clones, che stanno giocando una pessima stagione, e a proposito di pessime stagioni, anche Kansas State sta andando malissimo, e oggi ospita Oklahoma, che è arrivata all'ottavo posto nel ranking nazionale, giornata ricchissima in Big 12, perché c'è anche la sfida più bella dell'intera nottata, Texas sedicesima nel ranking nazionale, contro Kansas diciannovesima, in Atlantic Coast vi segnalo anche Virginia Tech, contro Georgia Tech, e Louisville contro Notre Dame, e poi c'è anche Villanova, sesta nel ranking nazionale, in Big East contro St. Jones, attenzione a St. Jones che sta rinascendo, al contrario dei Wildcats che sono un po' in calo, insomma, oggi un sacco di lavoro col College, ci sono anche sei partiti nel Micelle, per tutte le giocate, io vi invito come sempre nel VIP di Betting Maniac, nel canale Free invece uscirà come sempre la Free Pick quotidiana, credo che sfrutteremo la bella giornata di College, come abbiamo visto ci sono tante sfidi interessanti e importanti su cui lavorare. Andiamo alle Free Pick, apriamo subito rispolverando quello che dicevo ieri, la doppia di Darius a 2-0-2, Sinner vincente contro Beden, e Magier più 1,57 contro Serundolo. Passiamo poi alla Champions League, con tre giocate del nostro D'Artagnani, iniziamo dalla principale, che è una doppia, 2-19, Stake 1, Lazio-Bayern over 2,5, Atletico-Celsi over 1,5, quindi giochiamo su una serata di Champions con partite spumeggianti, speriamo. Allora, la Lazio ha segnato e subito almeno un gol in ciascuna delle ultime 12 partite di Champions, è la prima volta nella storia del torneo, speriamo che continui questo trend. Tra l'altro il Bayern non ha bisogno di grandi presentazioni, però dietro un gol potrebbe anche concederlo. In alternativa in singola c'è la combo gol-gol più over 2,5, ma il nostro D'Artagnani dice che la quota regala davvero poco. Vi spoilerò che nelle nostre tips di mercato noi abbiamo dato il più uno, è Gianendica, pala Lazio come segnalazione, perché ci stanno giocando in tanti, anche sulla doppia chance, la quota, come dicevo prima, sta calando, quindi attenzione, è difficilissimo, però magari la Lazio potrà giocarsela. Secondo me o va benissimo o va malissimo, staremo a vedere. Col Bayern è sempre pericoloso in Europa. Per quanto riguarda l'overino, l'over 1,5 con l'Atletico non si gioca al Wanda Metropolitano, l'Atletico in più ha qualche assenza importante, c'è anche la squalifica di Trippier. I Colcioneros arrivano dal brutto 2-0 interno contro il Levante in campionato, quindi se la dovranno giocare col Chelsea, che invece non perde da otto partite, lo vediamo dopo comunque. Qui ci interessano i gol, in sei precedenti su sette abbiamo visto almeno due gol tra Atletico e Chelsea. Come seconda giocata di Champions, il nostro D'Artagnan ci dà un primo cipino, Atletico Madrid-Celsea-X a 3-0-8, qui stake 0-5, stake è molto più basso. Cipino sulla X per quanto abbiamo detto sopra, non si gioca a Madrid, l'Atletico ha delle assenze, il Chelsea non perde da otto partite, considerando tutte le competizioni, campionato e Coppa, e tra l'altro ha pareggiato uno a uno anche nell'ultimo scontro di Champions contro l'Atletico. L'altro cipino ci concentriamo nuovamente su Lazio-Bayern, Lazio più cartellini gialli a 1,83, anche qui stake, investimento più basso. Giochiamo sul fatto che la squadra di Inzaghi prenderà almeno un giallo in più rispetto ai tedeschi, la Lazio tra l'altro ha registrato 4 cartellini gialli anche nell'ultima di campionato contro la Samp. E chiudiamo con Insider nel Volley, come promesso c'è la Champions League, Modena-Perugia over 3,57 a 1,74, ci si gioca la semifinale, il nostro Insider non crede che Modena sarà arrendevole dopo essere passata miracolosamente dalla fase Gironi, anche se Perugia è la squadra del momento, ha vinto anche entrambi gli scontri contro gli Emiliani. 3-0 in casa lo scorso 3 dicembre, ma 3-1 in trasferta il 24 gennaio. Tra l'altro da allora Modena è migliorata molto, i Canarini arrivano dalla bella prova contro Ravenna, col rientro dello schiacciatore Lavia, che alla fine aveva un infortunio meno grave del previsto. Per Insider questa non sarà una partita da 3-7 a 0 per Perugia, speriamo non sia una partita da 3-0 per Modena, perché lì ci sarebbe da buttare, anzi, fate così, un caffettino, mettetelo anche sul 3-7 a 0 di Modena, così non rischiamo nulla, visto che sarebbe quotata intorno a 20, una roba del genere, quindi perdere la quota 1,74, non perché Perugia la strafavorita vince 3-0, ma perché Modena sorprende 3-0, sarebbe davvero incredibile. Va bene, mi sono dilungato anche troppo oggi, alla fine noi ci ritroviamo domani, sempre per parlare un po' di risultati, statistiche, scommesse, quote, curiosità su tutti gli sport e le scommesse sportive, ci occuperemo in particolare della Champions League, c'è l'Atalanta, e quindi non mi resta che... Ah, giusto, domani è mercoledì, c'è anche il golf, stavo dimenticando. Quindi non mi resta che ringraziarvi dell'attenzione, salutarvi, vi auguro una buona giornata, fate buone scommesse, puntate sempre con la testa e continuate a seguirci anche su tutti i nostri canali Telegram. Un saluto, ciao! Ciao!